Oggi per la società Mazzara 2000 Calcio è una giornata molto importante perché la nostra attività si arricchisce ancora di tanta sicurezza quindi io ringrazio il dottor Luciano Amato appunto per la donazione del defibrillatore che sarà messo a disposizione appunto nel nostro centro sportivo e appunto nella scuola calcio quindi dottor Amato io la ringrazio vivamente in pubblico perché noi siamo nuovi diciamo come scuola calcio quindi già ricevere un defibrillatore nel primo anno è una cosa molto importante quindi grazie di cuore da tutta la società. Come diceva Pocanzi la struttura è nuova ma sono tutti veterani perché conosco un po' tutti quindi so che sono nel settore da parecchio tempo. La donazione del defibrillatore è importantissima per averlo in struttura perché salva la vita delle persone e qui vedo che ci sono molti giovani, molti bambini che stanno facendo sport, sono dei futuri atleti e quindi avere il defibrillatore dentro una struttura del genere è fondamentale quindi è solo un piacere essere qui oggi con il mio nome dentro questa struttura. Grazie a voi. Guardo con ammirazione questa meravigliosa città che denome Famazzara del Vallo che ha una cultura del dono che sicuramente sorprende tutti, sorprende anche me. La Fesa Panella Pasta è un progetto che nasce proprio con la cultura del dono e dentro questa cultura del dono ci sono aziende, imprese nel nostro territorio come la Orto Tecnica che da sempre ci segue, come la PM Costituzione di Petromarina, lo stesso Gaspare Genna con Agrigenna ma tante altre attività del nostro territorio importanti che comunque insistono e credono soprattutto nell'interesse di migliorare la salute di tutti i cittadini. In questo caso noi abbiamo, grazie all'amico Luciano Amato che ha accolto la proposta dell'organizzazione Fesa Panella Pasta e dell'Unione Nazionale dell'Alma Carabinieri abbiamo dotato questo impianto sportivo ma non sarà solo questo impianto sportivo perché c'è anche la struttura scolastica di Borgata Cossiere che attraverso anche il laboratorio analisi della famiglia Salvo che sarà dotato anche di un defibrillatore. Possiamo dire che qui adesso in questo impianto sportivo e del Mazzara 2000 a calcio ci sarà un residuo sanitario importante, salva vita, grazie veramente al cuore dei nostri concittadini che si spendono per il nostro territorio. Vero è che esistono imprese, aziende nell'interesse comunque di fare economia ma è pure vero che sono sempre pronti a donare il loro cuore. Il Mazzara 2000 oggi, grazie a questo nobile gesto che va sicuramente applaudito da tutti i presenti è un gesto che comunque ci fa riflettere. La nostra città è unita, la nostra città ama il nostro territorio ma soprattutto tiene tantissimo a tutta la collettività e oggi questi bambini presenti ne sono un esempio. Naturalmente noi speriamo che questo defibrillatore non serva mai, attenzione, che questo è il nostro auspicio ma una cosa è certa, questo impianto sportivo sarà dotato di questa apparecchiatura sanitaria. Speriamo sempre che comunque sia, come ha detto Francesco, che non possano servire perché giustamente se serve vuol dire che qualcuno ha avuto bisogno e se c'è, che speriamo non possa servire, servirà la vita umana di qualcuno che avrà bisogno. È chiaro che in questo contesto sto vedendo queste meravigliose bambine dove io fin da piccolo o, come tu ben sai, è giocato a calcio nella loro tenere età e vedere questi giovani, io veramente mi riempio il cuore di gioia. Non posso altro che fare un grande ringraziamento innanzitutto al mister e a tutte le entourage della squadra che avere a che fare con i bambini e dare lo spazio, il divertimento, lo sfogo, è una cosa meravigliosa, non è facile. Io da bambino ho avuto il pregio, l'onore di averlo fatto con le squadre di calcio La Mazzarese e quant'altro che oggi sono di altri livelli, non gestiscono più i bambini e ci dispiace. Essere presente in questo progetto, innanzitutto ringrazio sempre il dottore Luciano Amato per il nobile gesto che sta facendo e che è nel progetto Una che è festa del pane di Cossiera dove io ne sono fiero e orgoglioso di farne parte insieme a Francesco e a tutti noi, perché ognuno sta mettendo del proprio, affinché si possa realizzare e fare le bellissime donazioni, fare manifestazioni, divertimento, nelle periferie soprattutto e non solo, con il contributo di tutti noi. Mi ci metto pure io perché sono anche uno che sta contribuendo con grande piacere, con Francesco Foggia e soprattutto con Lunac che è il padre della famiglia e della gestione. siamo fieri di dare e donare quello che possiamo, nel nostro piccolo. Non è l'unica donazione che stiamo facendo, come ha detto Francesco Foggia, c'è già un'altra donazione a Bolgata Costiera, ma una grande opera sta donando Lunac, quindi la festa del pane, alla città di Mazzara del Vallo che io mi sto onorando di portarlo in consiglio comunale per essere allocata. Un'opera, una scultura meravigliosa, donata solo da imprenditori, grazie alla festa del pane. festa del pane ringrazia tutta la città, la comunità e sta donando alla città di Mazzara del Vallo una grande opera che a breve vedrete in consiglio comunale che stiamo presentando una bella mozione. Quindi, come dire, queste cose ci vogliono, non ci dobbiamo fermare oggi, domani, per sempre. Grazie Luciano Amato che è una persona meravigliosa, grazie a Genna, grazie anche a sottoscritto che siamo fieri di essere qui presenti e grazie a voi Mazzara 2000 per averci onorato di questa bellissima giornata. Grazie a tutti.